Ciao a tutti, è Steffi Serra, God alive in Cielo e Terra, nel cielo e nell'esterno. Un piccolo video, un piccolo video, su G7 in Francia. Gli argomenti, siamo tutti sconvolti per l'Amazonia in Brasile in fiamme e anche la Siberia, delle quali chiediamo conferme perché è talmente assurdo. Di accordi commerciali e guerra di dazi tra Stati Uniti e Cina, nelle condizioni in cui sono, di salute precaria, non posso essere preciso. Per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto di anime bianche, che in questi sette anni abbiamo subito un genocidio e una persecuzione con pochi precedenti nella storia. Il mio programma europeo è quello del mio sito, che ha avuto un 40% di astenuti e un gran bel successo. Sapete, sono completamente sconvolto da questo sequestro sistematico dei miei bambini in Italia, sicuramente anche in altri posti, in Italia ancora più clamoroso. Sono sconvolto della storia, come è stata manipolata, l'ho chiarita. Per quanto riguarda l'Italia, qualche squilibrato di governo ha creato danni al paese, soprattutto all'immagine del paese. Il paese è tenuta in alto dal mio prestigio e dei miei miracoli, dalla mia chiesa. Il paese è in grave recessione. Quando un anno fa con Gentiloni era il record positivo su quasi tutti i punti di vista, unico negli ultimi 40 anni, della storia italiana degli ultimi 40 anni. E quindi, al di là di qualcosa di positivo, l'Italia, che è stata pluricondannata dalla Corte europea dei diritti umani per sequestro di minori, di persistere di genocidio, persecuzione di mafie, che ha costretto ulteriormente a scappare migliaia e migliaia di giovani all'estero, io non riesco per problemi di salute e perché ho un contenzioso di 15 anni, con la psichiatria che mi ha distrutto questi 15 anni di vita, compromesso gravemente. Chiusa questa parentesi, invitiamo i membri del G7, come sempre, al consolidamento della fede. Io ho messo il metodo, le preghiere, il wellness, molto efficace, in mezzo agli alberi che adesso stanno bruciando. Ho messo la pagina del mio calendario a offerta libera. Mi sono messo a disposizione, nuovamente, per l'Italia, col mio nuovo progetto politico, il progetto Partito di Dio. Grazie del seguito e del sostegno. Spero di avere aiuto per potermi trasferire. Buona domenica, happy Sunday!